Ciao ragazzi, ben ritrovati di Elinti di Football qui a cercare di creare il calcio interstellare per voi Veniamo da un'ultima vittoria decisa, veloce e convincente Siamo agli ultimi, agli sgoccioli per questa stagione Lo sapete, prima divisione raggiunta, adesso cerchiamo solo dei punti Ma prima di fiondarci nel prossimo match, come al solito vi invito a lasciare un mi piace E a iscrivervi al canale se vi piacciono questi video, ovviamente questi contenuti E abbiamo un top, se ho visto bene, 400 al mondo, da 377 Quindi questa partita sa di difficile, sa di entusiasmante Andiamo a vedere il nostro, prima la nostra squadra E ovviamente ragazzi, quando la partita diventa importante Ciala non c'è, quantomeno abbiamo un Miki in formissima Questo ci fa piacere, vediamo giù in fondo, niente Turam, niente Quadrato Nada de nada, almeno gli altri sono giocabili E ci dobbiamo far tesi anche in super forma, speriamo che A quanto sale far tesi quando stanno in forma? Eh, almeno C'è decisamente di meglio ragazzi, però Eccolo qua il nostro avversario con un 4-4-2 Difesa top direi con quel Pavard In realtà giocano tutti, 93 forse non è una delle versioni più potenziate Barrios, veramente visto forse quasi mai Centrocampo molto interessante E poi attacco Romario Salah ragazzi Niente marcature, non gioca con le ali Poi vediamo se mettere su gli attaccanti E fiondiamoci ragazzi su questa partita Che penso sarà difficilissima Top 400 al mondo, top 370 Partitone Dopo l'ultima che in realtà ci è capitato un avversario di terza divisione Quindi match, quello della volta scorsa Decisamente più abbordabile Vediamo adesso la differenza ragazzi Che peccato, magari avessimo avuto i giocatori in forma come la partita precedente Ma tant'è ragazzi, ci siamo Siamo noi a cominciare Quello che calcia subito Scelta indiscutibile Perché comunque non era proprio Diciamo in formi Nel senso in un'ottima posizione Forse non era per Adriano il passaggio Migliore Qui sto, Eze, mamma mia ragazzi È velocissimo Qui, sapete che forse ci poteva stare anche il fallo? Un po' di Vrai che è andato a vuoto Poi l'intervento credo di Di Marco che potesse essere Considerato fallo Bellissimo questo tacco che lancia Lautaro non sbaglia Che giocata ragazzi Che giocata ragazzi 1-2 bellissimo Lui scivola perché sapeva che voleva fare fallo Purtroppo quando il giocatore salta Io non decido io quando il giocatore deve saltare o meno Altrimenti lo farei saltare sempre Fortunatamente qui Lautaro salta E possiamo andare in porta Con il primo gol Siamo in vantaggio Mamma mia che botta qui Violenta di Romario Ma ancora un tiro Da posizione non Diciamo perfetta Una posizione difficile Comunque leggermente difilato Fuori aria Abbiamo comunque un portiere top ragazzi Molto più che quando avevamo Ovviamente Onana Con Onana vi ci parliamo di un leggendario Quindi credo sicuramente ci sia un passo avanti Da questo punto di vista Quindi lui riesce ad anticipare Questo passaggio lunghissimo Cordoba che recupera e spazza via Mamma mia frattesi qui per un pelo Non riesce ad anticipare E devrai ancora a spazzare via Vediamo se l'autore riesce a tenerla Direi di no Protegge bene qui il suo difensore Buono il lancio per Adriano Che va a servire Di Marco Si distende l'Inter qui in contropiede E poi frattesi Ha ancora la Di Marco Qui falciato E infatti ragazzi La finta di Di Marco Ad andarsene sulla sinistra Che funziona Prende un calcione Ed è calcio di punizione Per noi sulla fascia Mamma mia che brutto errore qui Ho fatto quello in profondità Ma avrei dovuto cambiare letteralmente Ovviamente la Ancora Cordoba Stiamo spazzando un po' troppo ragazzi Però questo bisogna dirlo Bravo Miki A servire Miki che si era infilato Ma qui sta palla che passa sotto le gambe del povero Barella No io non ho parole come sia passato in mezzo a noi praticamente Salah Che ero quasi sicuro di dire Vabbè abbiamo preso la palla È nostra E De Vrij che va all'anticipo Ma mette in calcio d'angolo Lautaro Molto bene Bravo Si fa trovare pronto E poi Qui mi sa che ha sbagliato a premere Di certo non voleva tirare da lì Con De Vrij che va direttamente da Di Marco Molto bene Lui a coprire Poi però il passaggio è sbagliato Contro l'Adriano Buona per Miki che si infila Mamma mia la parata qui Mamma mia ragazzi Vicinissimi qui al raddoppio Qui però Di Marco un po' lento C'è Miki che recupera il pallone E la palla però è sua stavolta Abbiamo provato a Cercare Adriano che era un po' fermo in questo caso Bravo qui a recuperare Dumfries Molto bene qui a liberare Frattesi di Marco sulla sinistra Ancora per Frattesi che guadagna il fondo Mamma mia qui per un pelo E bastoni che anticipa tutti Il cross di prima c'è Adriano Che colpisce malissimo ragazzi Il cross era a dir poco perfetto Adriano che si è trovato davanti al difensore Non è riuscito a impattare bene la palla Qui che bello anticipo che fa il suo centrocampista E Frattesi però Anche che si fa trovare pronto Non riesce però a servire Miki Qui ci sfugge letteralmente Romario E ancora ragazzi Questa scelta di fare questo tiro Sul sinistro Romario è destro Da posizione difficile Non so perché lui gioca molto bene Ma queste scelte di questi tiri E' come che siano palesemente sbagliate Non so se lui Preferisce giocarsela così Oppure Qui non c'è spazio ragazzi Quindi dobbiamo andare direttamente da Adriano Poi il colpo di testa però Sembrava un po' meglio Bravo Barella a recuperare Eh l'1-2 qua era Un po' troppo pretenzioso Dai Miki Fatti vedere Bravo Miki che torna e recupera Qui si passa quella palla di Lautaro Ragazzi Ci divertiamo E come ci divertiamo Per adesso è 1-0 Partita molto dura Lui ha tirato molto più in porta di noi Ma tiri sempre da posizioni abbastanza Poco preoccupanti Mettiamola così Noi abbiamo avuto una grande occasione Stranamente non l'abbiamo fallita Poi abbiamo avuto un'altra grande occasione Con Adriano Con il cross di Di Marco E lì Adriano non è riuscito a impattare bene il pallone 1-0 Una partita equilibrata 1-0 che ci può stare Ma anche il poreggio ci poteva stare Bravo qui Di Marco a recuperare Proviamo a ripartire con calma Per vedere se riusciamo ad arrivare Palla al piede E qui Mamma mia ragazzi Brutto errore Per fortuna recuperiamo Con Cordoba Che va direttamente da Lautaro A cercare lo scatto di Lautaro Che passa davanti al difensore Davanti al portiere Non sbaglia Ma che protezione della palla di Lautaro 1-2 Lunghissimo Il suo difensore Qui là ragazzi dovete spazzare C'è poco da fare Questo è un errore Lo possiamo annumerare Tra quello che potrebbe essere un suo errore Perché qui ragazzi dovete spazzare il pallone C'è poco da fare Brutto qui il mio passaggio Con Con De Però la palla è per Dunfries che recupera Buona questa azione A lanciare Michi Che poi vada a Barella Che va a palla al piede A cercare Lauti Che si era infilato Bravo ancora Barella A recuperare questo pallone Madriano che ha provato a girarsi Evidentemente Mamma mia ragazzi Qui per un pelo E poi Barella ancora Che sta facendo Una grandissima partita Il Varco per Di Marco Che prova a crossare Fermato al momento giusto Non volevo fare questa cosa ragazzi Non volevo scivolare Meno male che è saltato Il suo Giocatore Sarebbe stato Un peccato prendere un rosso così E rovinare una partita Bravo Dunfries Mamma mia ragazzi Qui ancora Con questa palla allungata Lui se la vede brutta E qui c'è Il gol di Credo sia Mbappe Palla che passa Ad un A un centimetro Al nostro difensore Che non riesce ad anticipare E purtroppo Prendiamo il gol del 2 a 1 Partita riaperta Non ho parole ragazzi Prendiamo il 2 a 2 In una maniera abbastanza clamorosa Mamma mia ragazzi Questa è brutta Mamma mia ragazzi Questa è brutta Che brutto 2 a 1 2 a 2 Che abbiamo preso Oh ragazzi Non ho parole Mi ha rimontato 3 a 2 In 10 minuti Abbiamo preso 3 gol assurdi Ragazzi Abbiamo perso Praticamente Tutte le marcature Che partita E io non posso Michi è morto Ma io chi faccio entrare Devo far giocare Correa ragazzi Mamma mia ragazzi Abbiamo preso 3 gol clamorosi Uno dopo l'altro Mamma mia ragazzi Che peccato Partita Buttata così Che rimonta Che ha fatto Il nostro avversario Onore a lui Giocate Di pregevole Fattura Mamma mia ragazzi Se vabbè Cordoba Per un pelo Riesce a fermare Qui Mamma mia ragazzi Il suo centrocampo Nel secondo tempo È salito Proprio in cattedra Mamma mia ragazzi Frattesi A un certo punto Poi quando Quando si stanca È veramente In giocato Cioè nel senso Non ha Mamma mia Che intervento Di De Vrij Lui ci stava colpendo Ancora in contropiede Mamma mia ragazzi Però che partita Questa Come abbiamo fatto A prendere questi 3 gol Io non ve lo so dire Onestamente Con Correa Appena è entrato Che prova A imbastire Questo contropiede Ragazzi Spiegatemi No ragazzi Io non lo so Spiegatemi Cioè io sono passato Attraverso il pallone Con Dumfries Spiegatemi Che cosa è successo Abbiamo Perso questa partita E va bene Ma Spiegatemi Però ragazzi Che a me serve Una spiegazione Perché Non ha proprio senso Ragazzi Qui la palla è addirittura Sua Perché tocca E nel secondo tempo Non abbiamo preso Un rimpallo Ragazzi Non abbiamo vinto Neanche un rimpallo Neanche A comprarlo Letteralmente E niente ragazzi E così Va bene Va bene così Ma Uno poi Ci pensa meno Perché comunque Siamo in prima divisione Quindi Va bene lo stesso Non ci interessa molto Però Adriano Scaraventato a terra Lì Poi lui parte in contropiede Non so se ha cambiato la formazione Forse giocava con le ali Ma anche qui ragazzi Che Di Marco Non interviene Io non lo so ragazzi Io veramente Non lo so Proviamo a Ripartire qui con Correa Che va di nuovo Da Di Marco Ma lui fa Una grande E poi in contropiede Grande recupero Con Adriano Che va No ragazzi Vabbè Tutto a posto Sta partita Ragazzi Non Non sa Non si deve Non si deve Pareggiare Nel senso A questo punto Nulla più Da Da dire Nel senso Io non so Che dirvi Che Veramente ragazzi Che peccato Perché Onestamente Eravamo nettamente In controllo Qui E frate Si riesce A recuperare Un pallone Vediamo Se riusciamo A fare Il gollo Del Qui Stavolta Il suo difensore Che riesce A fare L'intervento Penso A questo punto Sia finita Ragazzi 4 4 a 2 Il nostro Avversario Vince E rimonta Per carità Fortissimo Anche lui Ma ragazzi Ne abbiamo preso Un paio di gol Che io Non riesco A spiegarmi L'ultimo In particolare Io vi ripeto Per carità Amba Per fortissimo Ma Non posso Passare Attraverso Cioè Io passo Attraverso La palla Del giocatore Fa un po' male Purtroppo Ragazzi Quando si gioca Con Gente come Dunfri Sulla fascia Purtroppo Credo che sia Questo il risultato Peccato ragazzi Perché poi Vi ripeto Alla fine Eravamo partiti Bene Sembravamo in controllo Lui Aveva fatto Solo un paio Diversi tiri Senza alcun senso Ci batte in rimonta Per carità Poi un avversario Come vi dicevo Se non sbaglio Andiamo a vedere Era comunque Top Non lo so Ditemi voi Che cosa ne pensate 377 Attuale E Tra l'altro È stato anche Tra i top 50 Al mondo Per carità Vi ripeto Ragazzi Però Ditemi voi Cosa ne pensate Di questa partita La differenza Fa prima e secondo Tempo È Inspiegabile Sarà Sicuramente Anch'io Che me ne sono sceso Di Qualità di gioco Può essere Anche quello Indubbiamente Peccato Ragazzi Fa sempre male Per deni rimonta Ma questo È il gioco Del calcio Io Come ascolto Vi ringrazio Per aver guardato E ci vediamo Alla prossima